Da una parte la festa del Lecce per la salvezza conquistata con tre turni d'anticipo, dall'altra un Udinese che torna a sperare nella permanenza in A. Queste le due istantanee del lunedì pomeriggio dello stadio Via del Mare. Contro la sua ex squadra Gotti ha ridisegnato la formazione iniziale. Privo infatti di piccoli squalificato, il tecnico ha optato per Christovic unica punta con Rafià in appoggio, Almquist e Dorgu sulle fasce. Troppo evidente però la differenza di motivazioni rispetto a un Udinese che ha colpito nel primo tempo con Lucca e nella ripresa con Samarzic. Decisive ai fini della salvezza per la formazione friulana le ultime due partite contro due dirette concorrenti Empoli e Frosinone. Il Lecce dal canto suo chiuderà il campionato contro Atalanta e Napoli e poi inizierà a pensare alla prossima stagione. Ammirevole da ultimo il gesto di Luca Gotti che nella conferenza stampa della vigilia ha elogiato il lavoro del suo predecessore Roberto D'Aversa. Sotto la cui guida il Lecce ha conquistato 25 dei suoi attuali 37 punti. Un lavoro quello dell'ex tecnico che rimarrà comunque agli atti di questa stagione al di là dell'epilogo dello scorso marzo.